Se siamo riusciti a mettere un prezzo, a calmirare un prezzo dal gas, a mettere un prezzo massimo su gas, perché non lo facciamo anche quel gasolio? Le accise sono queste da quasi cinque anni. Allora non diamo la colpa alle accise, diamo la colpa al costo industriale. Il costo industriale non lo fanno di certi distributori. Una sorta di price cap del carburante per fermare gli aumenti è la proposta degli autotrasportatori di Confartigianato Treviso. Dopo la pandemia il prezzo del gasolio è aumentato esponenzialmente, al di là dell'andamento del greggio. Inutile dunque puntare il dito contro le accise, continua Danilo Vendrame. A proposito di accise, al momento il governo non ha intenzionato a metterci mano. Nella bozza del decreto in discussione in Consiglio dei Ministri si punta piuttosto a contrastare eventuali speculazioni. La novità più importante è l'obbligo per i gestori di esporre al fianco del prezzo alla pompa anche quello medio nazionale. Una misura che secondo Vendrame potrebbe penalizzare il nostro territorio, dove l'elevata presenza di pompe bianche determina, spiega, una sana concorrenza. Mettendo di fianco il prezzo nazionale che è molto di più, noi nel nord-est in teoria andremo peggio. Va a finire che si appiattisce il prezzo sulla media nazionale. Contro questo provvedimento si scagliano anche i gestori e carburanti Treviso, con Moreno Parina che parla di un'ulteriore incombenza e di un duro attacco del governo nei loro confronti. Intanto gli autotrasportatori, quelli con mezzi superiori ai 75 quintali, attendono quanto promesso dal Ministro Salvini in occasione dell'Assemblea di Confartigianato. Noi avremo un ristorno delle accise, quindi in teoria per gli automezzi, quelli più grandi, questa cosa non dovrebbe essere sulle tasche di trasportatori più grandi. Esclusi dall'agevolazione furgoni e autotrasportatori più piccoli, il 90% dei mezzi matricolati in provincia di Treviso. Per loro la situazione si fa sempre più pesante, con una conseguenza già tracciata. Va tutto sul cliente finale, aumenterà un altro giro, aumenterà tutto, anche perché dopo quando si comincerà a aumentare tutti saranno invogliati a fare un altro giro di aumenti, invece di calare l'inflazione avremo un'inflazione molto più alta per tutti quanti.